Salve a tutti e benvenuti nel mio canale, nel quale tratterò l'argomento testudo, ovvero tartarughe di terra. Ho deciso di creare un canale che tratti di questo argomento perché ho notato che video di questo genere sono poco presenti su Youtube Italia. Il mio intento è quello di diffondere informazioni riguardanti questi rettili tramite video non troppo lunghi. Che dire, lasciate like se il video vi è piaciuto, commentate ed iscrivetevi per non perdere i futuri video.